Sono il Val di Luce, ho risalito per 700-800 metri, la parte destra è in torrente, dovrebbe essere in torrente il Modino, non riesco a trovare un modo per attraversare, è veramente torrentizia, guardate qua, normalmente si riesce a attraversare da tutte le parti. Tenendo l'acqua cascata da ogni parte, bellissimo, meraviglioso, maghetto, acqua da tutte le parti.